Ciao a tutti, oggi siamo qui in compagnia di Alessia che ha appena iniziato questo percorso con me e vi speriamo bella mia che tu possa trovarti bene e quindi buon inizio e poi ne approfittiamo per fare i migliori auguri a tutte le donne del mondo e vi dedichiamo questa tarantella Buon ascolto e auguri a tutte Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao E auguroni ancora